Nel lontano 2012 a Torino, una piccola associazione con grandi idee ha dato vita a Moving TFF, una rassegna cinematografica itinerante che porta i film delle edizioni passate del Torino Film Festival in giro per la città e non solo. La rassegna Moving TFF è cresciuta negli anni e ha conquistato sempre maggiori consensi. È diventato un appuntamento che aspettate in tanti, perché è un po' di ognuno di voi. Negli ultimi tre anni siamo riusciti ad arrivare anche fuori Torino, a Biella, Saluzzo, Pinerolo, Novara e quest'anno Moving TFF sarà alla festa del cinema italiano di Liegi, in Belgio. Abbiamo creduto nel progetto e nella sua mission, portare i film delle scorse edizioni del Torino Film Festival sul territorio, facendo rete con le realtà che attivamente fanno cultura. Noi curiamo Moving TFF con passione, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Sostienici per avere un Moving TFF sempre più riuscito. Sostienici per essere parte del progetto. Sostienici. Aiutaci a mantenere Moving TFF gratuito per il buio. Sostienici per aver guardato il nostro canale. Sostienici per aver guardato il nostro canale.